Soccorritori al lavoro senza sosta è un filo di speranza per un gruppo di 12 giovani calciatori intrappolati in una grotta da tre giorni nella provincia di Chiangrai nel nord della Thailandia. I ragazzi di età tra gli 11 e 15 anni insieme al loro allenatore sarebbero entrati all'interno della cavità naturale di Tam Luang in un parco nazionale al confine con Myanmar e Laos in seguito a un'inondazione. Da allora non si hanno più notizie. Le squadre di soccorso hanno fatto sapere di aver rinvenuto in pronte fresche nella grotta il che fa pensare che siano ancora vivi. Il gruppo potrebbe aver trovato rifugio in una parte della grotta che si trova circa 4 km dall'ingresso ma l'acqua potrebbe aver bloccato il sentiero di accesso.